pronto no anche questa scrittura mi cancellate ma insomma che fine faranno gli attori e le attrici devo parlarne con l'utope che si occupa di questo andrea l'utope che si occupa del recupero di attori e attrici ah fai qualcosa per noi il mio recupero attori e attrici disoccupati stava recuperando tutti gli attori per delle webseries magari vogliono tornare insieme e l'idea è questa tu adesso devi fare finta di notare tu me lo aggiungi per la spiaggia tanto per dare l'idea sicuramente recuperare questi attori non sarà facile ma io in quanto tocca il potere ce la farò